Mettere 50 euro a panino nel libretto di circolazione o nella patente è la speranza che il militare di turno chiuda un occhio. In molti pensano che questa sia una consuetudine andata in disuso, che ormai questo tentativo di corruzione sia stato rilegato alle barzellette. Invece c'è ancora chi pratica ciò, è accaduto a nocere inferiore. Questi i fatti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili hanno fermato durante un posto di blocco stradale un autocarro condotto da un 46enne. Sul cassone dell'automezzo l'uomo trasportava un veicolo a tre ruote. Dopo i dovuti accertamenti presso la banca dati, il veicolo è risultato cessato dalla circolazione e quindi destinato alla rottamazione. I militari hanno subito contestato il reato di illecito trasporto rifiuti, nonché di mancata copertura assicurativa dell'autocarro. Il conducente e proprietario del camoncino a quel punto però ha offerto più volte un compenso per essere lasciato andare via ai carabinieri operanti, affinché dunque omettessero il reato contestato. 50 euro il frutto del misfatto, che è costato ancora più caro al 46enne, che è stato subito arrestato e, dopo le formalità di rito, sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno quindi sequestrato il veicolo e la banconota di 50 euro, prova del reato di tentata corruzione.